Questa sera a partire dalle 21 allo Stadio Olimpico torna protagonista la Champions League con la sfida tra Lazio e Feyernord. Sul fronte della sicurezza sono già in vigore e misura d'oc a tutela dei principali monumenti della città. La partita si svolge in assenza della tifoseria ospite come stabilito dal prefetto di Roma. Tuttavia non è esclusa la presenza dei tifosi olandesi in città arrivati per sostenere la propria squadra. Nel primo pomeriggio scatterà poi il consueto piano viabilità e trasporti con divieti di sosta ad ampio raggio nella zona del Foro Italico. A proposito di viabilità da ricordare il cantiere a Piazza Pia, la raccomandazione è quella di evitare di passare in zona San Pietro Castella Sant'Angelo utilizzando come alternativa la direttrice Via Leone XIII Circonvalazione Clodia. Lo stadio è raggiungibile anche con il tram della linea 2 e con altre 16 linee di bus. L'elenco è su romamobilità.it Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.